Grazie E quando sono tornato a casa, la prima notte, mi viago come un'arma d'armi, ho trovato una macchina dentro il mio garage, così che io non potevo entrare a te. All'amore tesoro, ti amo, ti amo, potresti spiegarmi per me, perché c'è una macchina dentro il mio garage, insomma, mi potresti dire di chi è. Vado, se sempre mi amo, se ricogliono il tuo, con te non so più come fare il tuo. Mi è distratto. Mentre il garage, il garage, il seguito d'erba, fuori centrato da otto gli occhi. E sì, che sono un'arma del mondo, mi ho visto di cose figliose, mi ho visto di tutto, però è proprio strano, un toso a erba con la taglia di milano. E quando sono tornato a casa, la seconda notte, mi viago come un carretero, ho trovato un cappotto, un cappotto sulla, così che non mi potevo se ne vedevo. Amore tesoro, ti amo, ti amo, ti amo, potresti spiegarmi per me, perché c'è un cappotto sul divano, un po' di cociuta, adesso mi devi spiegare di chi è. Se non mi è graziato, cos'è che hai detto? E poi se non mi sia, non compri o mai mai. Non è un cappotto, è soltanto la coperta di tua madre, mi ha cucito per il Natale. E sì, che sono un uomo di nuovo mondo, mi ho visto di cose figliose, mi ho visto di tutto, ma anche Dio mi perdoni, un uomo di nuovo mondo, mi ha cucito per il Natale. Un uomo di nuovo mondo, mi ha cucito per il Natale. Un uomo di nuovo mondo, mi ha cucito per il Natale. Un uomo di nuovo mondo, mi ha cucito per il Natale. Amore tesoro, ti amo, ti amo, potresti spiegarmi per me, perché c'è una testa sul cuscino che mi guarda, ma anche una testa che però non assomica a me, perché... Ma vai a dormire, dormire... Vai a dormire! Ok, non si può, no? Ma vai a dormire, danno a tuo creatore, adesso mi è proprio stupata. E sì, che sono un uomo di nuovo mondo, mi ha visto di cose figliose, che ho visto di tutto, ma mi prenderebbe scatti. Hai visto un pallone con i barri? Che quando sono tornato a casa la quarta notte, che adesso non mi ricordo neanche bene, ho trovato il mio cuore sulla porta di casa, il mio cuore che stava in catene. Amore tesoro, ti prego, ti scongiuro, potresti spiegarmi per me, perché ti è in catene. Perché ti è in catene il mio cuore, e non lasci che batta ancora per te. E non ho sentito risposta, e mi sono messo a sedere. Poi dentro il silenzio, più duro del mare, si è sentita una lacrima cadere. Poi dentro il silenzio, più duro del mare, si è sentita una lacrima cadere. Grazie a tutti.